Attirare l'attenzione sulle intimidazioni e sul clima di tensione in cui sono costretti a vivere gli amministratori locali calabresi. E' questo lo scopo dell'incontro che avverrà a Roma il prossimo 23 settembre tra una delegazione di sindaci e il vice ministro degli interni Filippo Bubbico. Il promotore dell'evento è il primo cittadino di conflenti Giovanni Paola che spiega che il 60% circa dei comuni calabresi è costretto a denunciare episodi di micro e macro criminalità contro la pubblica amministrazione. La cosa più triste, commenta Paola, è che di fronte a tali drammatici accadimenti si rimane sempre più soli. E la cronaca purtroppo è continuamente puntellata da episodi di intimidazioni e danni di sindaci. Meno di un mese fa, la notte del 20 agosto scorso, l'auto del sindaco di Motta Santa Lucia, Medeo Colacino, venne data alle fiamme. Una manciata di giorni prima era toccato al sindaco di Albidona, comune dell'Alto Cosentino, di 400 abitanti. I gnoti gli bruciarono la porta di casa. Sempre ad agosto a Walter Scerbo, sindaco di Palizzi nel Regino, arrivava una lettera contenente minacce di morte, accompagnata da un articolo del quotidiano della Calabria, relativo all'attività di bonifica dell'itolare costiero posto in essere dal comune. Ad aprile fu il turno della vettura del sindaco di Zagarise, Domenico Galelli, a gennaio di quella del sindaco di Tropea, Giuseppe Rodolico.